Il progetto Secondo me sto capendo sempre di più qual è il mio modo di far ridere e chi sono. Commenta Frank, tutti questi anni sono stati la mia palestra e, rispetto a tutto quello che ho fatto. Mi manca ancora un mio progetto personale dove far vedere quello che sento e che sono. Che sia un film o un programma televisivo, qualsiasi cosa che mi permetta di mettere in atto quello che ho imparato. Secondo me ancora non l'ho fatto e ogni anno ci lavoro. Matano commenta poi la realtà della piattaforma video YouTube, a cui deve parte della sua notoretà. Le somiglianze non esistono. Aggiunge, ognuno di noi ha una peculiarità che lo differenzia dagli altri. Penso che oggi per YouTube sia un momento fortissimo, sto vedendo cose molto fighe. Uno YouTuber che mi piace molto è Luis Sal, l'ho conosciuto e, a proposito di Talia's Got Talent, penso che sia un grande talento. Grazie a tutti.